Vincenzo Pontevoli Grazie mille Grazie mille La domanda non lo dovrà dire, ma prima di presentarmi il tuo comodo, quant'è, diciamo, il gruppo di seduto? Io non voglio ripassare un sacco di lavoro. No, sono stato uno dei blinder, ah, sono in situazione di caccia, poi non ho detto. Mi spiavo, perché poi si era chiuso tutto alla video, quindi si era chiuso tutto alla video, ma adesso ho fatto anche i punti prima. Che rigore che segnalate? Sì. Sì.